...a Houston sulla panchina dei Lakers di Rudy T, l'icona, l'allenatore buono dal grande... ...diente così, ecco, andiamo via anche Kobe e poi veramente chiudiamo tutto, eh? Anche perché a quel punto allo stay percent... ...vi ringrazia con due di classe. Lakers, ripeto, trentesimi per palle recuperate e trentesimi per palle perse... ...eppiamente alle palle perse, non è proprio il loro momento... ...e direi notevole crescita, dice... ...totalmente diversi dai suoi e secondo me in maniera settata li prenda per i fondelli. Assolutamente, e poi anche come Grant, un po' di overload, se non volete chiamarlo triangolo per i Lakers... ...poi l'avventura di Butler, il rimbalzo di Jones, è ancora una volta... Molto ingenuo perché abbassa il braccio, se voi notate. Lo fa scendere dall'alto verso il basso e l'alto non può non fischiare. Soprattutto sul divano ed è un body hog che ha preso la casa. Poi la scelta d'Antoni, credo, abbia trovato ancora l'impronta. Una volta due, una volta quattro. Una volta due, quattro, Elimination Game, il che lo ha portato. ...cosissima, ecco quindi adesso lui guarda con un certo disincapabile, se mai dia voglia di allenare, un Northwest, quindi una Portland o una Seattle. Secondo me, che bisogno ha di tornare... ...palleggio, non può usare i centimetri, riapre per tutti, tiro piazzato da tre, che esce, rimbalzo toccato due volte da Walton. Finito!